Questo è un anno ancora più importante per la Liguria, Alvinitali, un anno in cui avremo molto più spazio ma sicuramente abbiamo più etichette rispetto al passato. Questo è testimoniare che il territorio è vivo, le aziende agricole continuano ad investire. Lo scorso anno abbiamo avuto circa 100 ettari di richiesta di nuovi vitigni, quindi un settore in evoluzione. Siamo intorno dai 4 ai 5 milioni di bottiglie prodotte che è un numero buono per la regione Liguria ma possiamo sicuramente fare ancora molto. Sono estremamente soddisfatto anche perché i nostri imprenditori, le aziende agricole stanno diversificando anche l'attività, stanno facendo le bollicine che è un campo nuovo al quale approcciamo con ottimi risultati ma anche solamente l'interesse che c'è a reimpiantare nuovi vigneti io credo che sia molto incoraggiante per chi fa il mio lavoro.